E allora buona settimana, buon lunedì cari amici rossoneri, siamo qui di nuovo su Milanello puntualissimi perché il mercato finalmente entra nel vivo, finalmente, già abbiamo preso tonali su tutti ma ci saranno altre grandi soddisfazioni che in qualche modo qui su Milanello vi abbiamo anticipato da diverso tempo lo ribadisco perché mi fa piacere e credo che faccia piacere anche a voi mi raccomando l'iscrizione in questa zona, video ogni giorno, in questa fase ovviamente tanto calcio mercato ma tra poco si torna in campo e quindi parleremo ovviamente anche del calcio giocato giovedì Europa League e vi racconterò, farò la cronaca della partita live qui su Milanello quindi segnatevelo, siamo qui presenti per stare insieme e per darvi ulteriori servizi viviamo insieme l'inizio della nuova stagione del Milan qui su Milanello il like ve lo ricordo sempre, allora tanto calcio mercato, rispondo alle vostre domande e vi do anche qualche notizia in più, con tanto calcio mercato ogni settimana lo dico ai nuovi che si sono appena iscritti su un post che scrivo sulla community di Youtube voi lasciate tutte le domande, io adesso vi rispondo così vi do anche tante 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 notizie di calcio mercato avete intravisto già nomi importanti, volti importanti sulla copertina di questo video sono molto carico perché sono davvero convinto che possa essere l'anno della rinascita del nostro caro Milan allora partiamo da Saverio, secondo me l'attuale stipendio di Donnarumma è eccessivo lo girerei su un altro ruolo, non ho mai visto squadre che lottano per il quarto posto strapagare il portiere e avere carenze nel resto della squadra hai stra-ragione Saverio il problema è che purtroppo in questa sessione nessuno vuole Donnarumma quindi o gli rinnovi il contratto o lo perdi a zero quindi qualsiasi cosa fai è difficile e poi ancora un messaggio di Mirko che dice ieri la gazzetta ha scritto chiesa sorpresa del diavolo si apre una clamorosa pista di mercato oggi è una sorpresa clamorosa solo per chi non segue Milanello grande Mirko effettivamente sì e vi darò altre notizie poi su chiesa nel corso di questa diretta grande Mirko Claudio tra i vari giovani che stanno disputando questa amichevole ne vedi uno che lanceresti in prima squadra non da titolare ma come alternativa utile io considero tutti troppo acerbi allora teniamo presente che l'anno scorso Milan ha giocato nella serie B della primavera e teniamo presente come dico sempre che un conto è giocare le amichevole estive e un conto è giocare poi in campionato Colombo a me è piaciuto Robac è piaciuto Pobega non mi ha convinto ma credo che sia poi più pronto di tutti avendo fatto l'anno scorso un campionato in serie B ma credo che andrà a fare esperienza in una squadra di media e bassa classifica in serie A però sai se giochi contro il Brescia Milanello è una squadra di serie B è una squadra che tu stesso non hai tante pressioni quindi secondo me valgono fino a un certo punto ti dicono che sono giovani interessanti ma sinceramente io non ci faccio troppo affidamento devono fare un anno ancora di gavetta e crescere piano piano e poi Tommaso si dice che la Fiorentina voglia Keita Balde questo potrebbe avvicinare Chiesa al Milan visto che avevano detto di avere troppi attaccanti ne stanno comprando un altro potrebbe essere sì sicuramente la Fiorentina sa che rischia di perdere Chiesa e quindi sta sondando altre alternative io dico che seguirei molto in casa viola anche la pista De Paul visto che servirebbe un altro centrale Ayer del Celtic che non è più un obiettivo io no non è più un obiettivo il Milan si sta concentrando su Milenkovic della Zetakimar più che vuoi tu prenderei Stengs un esterno destro mancino da mettere al posto di Castieco però lì il Milan vuole e vuole non Enrico il figlio di Enrico Federico Chiesa Donatella provare a fare lo scambio Paqueta Denayer oppure per la difesa con la Tede Lipsia si può fare tutto ma non sono nomi attuali per il Milan l'Inter propone Pesic è circolata questa voce in settimana però non ci sono degli sviluppi è stata più un'idea fatta circolare dall'Inter che ha bisogno di piazzare il giocatore ma il Milan si concentra su Federico Chiesa Romba cosa ne pensi della situazione delle altre big in Serie A la buona uscita della Juve per Higuain per quanto riguarda il Milan io otterrei Calabria e darai via Conti allora Calabria è a bilancio a zero Conti no quindi per questo chi è impradicato di andare via è Calabria per una questione di bilancio le altre big Higuain è stata un'operazione fallimentare per la Juve da un punto di vista economico e sportivo e per quanto riguarda le altre big la Roma si è indebolita in Napoli secondo me non è sopra il Milan la Lazio è un punto di domanda l'Atalanta sta andando avanti con continuità ma quest'anno dall'inizio non ha Ilicic però avrà Mirancic che è un bel giocatore non pensi che si punterà tutta la stagione solo su Ibra lì davanti facendo gli scongiuri dovrebbe essere almeno 45-50 partite serve un 9 serve un 9 come vi dicevo nel video di ieri mattina se il Milan passa i tre preliminari allora può arrivare Jovic in prestito ancora Maurizio Mina sta puntando di più su Orie o su Dumfries Dumfries no Orie è ancora attuale ma l'idea è di prendere Milenkovic che possa fare il centrale e il terzino lì fermo abbottonato le ha ufficialmente indisposto in realtà la sensazione i rumors dicono che potrebbe avere anche lui quello che ha avuto Tonali per intenderci ma sono dati sensibili non ne ho la certezza quindi non vado oltre Micolenco arriva bisogna capire intanto se si piazza l'Axalt lo dico a Nicola spendere soldi per il terzino per il mercato che il Milan vuole fare mi sembra un po' difficile però vediamo saluto anche Stefania Tonali e Diaz con te giocheranno nei preliminari di Europa League Diaz potrebbe partire dall'inizio Tonali parte dalla panchina Bale vero fake più la seconda anzi seconda sì dei giovani emergenti questo era Fede chiede Cristian chi vorresti rimanesse Maldini secondo me Maldini Pobega Colombo resta in primavera Calulu resta in primavera all'occorrenza può venire su Gabbia se arriva Milenkovic potrebbe andare via e gli altri a Maldini Pobega consiglio di fare esperienza altrove in una squadra di media bassa classifica in Serie A Maldini forse Serie B perché non ha fatto proprio il campionato di Serie B a differenza di Pobega che l'anno scorso giocava nel Pordenone Chiesa che con ogni probabilità andrà via dalla Fiorentina quest'anno la distinazione più probabile sarebbe il Milan oggi su Chiesa davvero c'è solo il Milan Castieco non deve partire lo voglio titolare io preferisco molto di più Chiesa titolare rispetto a Castieco Sumare è un'alternativa però il Milan al momento è sempre concentrato su Bakayoko spenderà 5 milioni per il prestito oneroso bisogna capire il diritto di riscatto a quanto il Chelsea deve abbassare un po' le pretese con l'uscita di Krunic dopo l'Europa League secondo me può arrivare la fumata bianca premetto che Conti e Calabria non sono granché però tra i due il meno peggio Calabria in questa fase sì perché Conti non lo stai vedendo Calabria sta facendo bene nel precampionato ma l'anno scorso secondo me il meno peggio è stato Conti lo dico a Carmine poi Danilo dopo il riscatto di Rebic non credi che possa essere un'ottima chance di vedere nel Milan uno fra Chiesa o Milenkovic ne parliamo da diverso tempo Danilo grazie per i complimenti possiamo prendere Fofanay e Sumaré no? Sumaré forse non mi nuovi per la prima era del Milan sinceramente seguo più la prima squadra con tutto rispetto Tatarussano cosa ne pensi? mi chiede Tommaso ci sta io gli avrei fatto un biennale arrivare a 37 anni è vero che è un portiere è vero che prende anche poco però va bene è un buon dodicesimo Mikolenko su Pre sono stati proposti come abbiamo detto e lo dico a Marco il Milan comunque deve monetizzare dall'Axalt non credo sia così facile arrivare a Mikolenko perché chiedono più di 10 milioni di euro però un terzino se va via l'Axalt può arrivare anzi arriva sicuro tra Bacca e Sumaré e Gabri in pole position c'è sempre Bacca Chi ha più probabilità di venire come centrale Denayer o Milenkovic è assolutamente Milenkovic che è il pallino di Pioli come diciamo da diverso tempo ancora rinnovo di Cialanoglu questa settimana ci dovrebbe essere un incontro con i suoi procuratori un terzino destro lo faremo o proviamo a lanciare Calulu come terzino destro puro non tramonta definitivamente Orrie però attenzione perché Milan se prende Milenkovic prende anche un terzino destro che sta lì fermo abbottonato che copre la fascia soprattutto se la davanti c'è un giocatore come Chiesa che magari è meno predisposto a tornare a sacrificarsi un'uva sorpresa come difensore centrale sorpresa non credo non credo una sorpresa però non lo escludo neanche non dovesse arrivare Milenkovic si potrebbe vedere qualche opportunità magari senza spendere troppo Denayer non è un nome concreto per quanto mi riguarda novità concrete mercato in uscita Krunic può partire dopo l'Europa League e credo anche la prima di campionato quindi dopo il lunedì Friburgo Torino a oggi L'Axalt purtroppo è tutto fermo Duarte si prova a piazzarlo in prestito ma prima deve arrivare il difensore Alilovic a parte un sondaggio del Benfica siamo fermi Paquetà si è detto Lione io credo che possa essere la contropartita la Fiorentina per Chiesa se la Fiorentina accetta Paquetà che comunque volevano a gennaio Rinnovo Gigio è difficile è molto difficile è molto complicato da che parte prendi in mano la pratica è complicato e fai fatica nuovi acquisti ne stiamo parlando in questo video Calullo e Colombo saranno utilizzati in prima squadra proprio all'occorrenza io credo che alla fine possa arrivare un 9 se a condizioni economiche favorevoli cioè gratis se verrà preso un trequartista di destra titolare Salemakers sarà ceduto in prestito e io credo che possa partire più Castille con di Salemakers che è appena stato riscattato abbiamo lo dico a Big Scary poi Martino abbiamo così bisogno di un tuffatore come Chiesa là davanti no dai non scherziamo la priorità deve essere Milenkovic io farei entrambe le cose per carità piuttosto là davanti scrive Martino Boga fortissimo gioca ovunque secondo me Chiesa è perfetto per il Milan e il Milan è perfetto per Chiesa se cambia maglia Chiesa esplode e se lo fa con Ibrahimovic ha maggior ragione Marco i soldi per Paquetà andranno investiti su Milenkovic o su Chiesa io so per certo che il Milan vuole provare a prenderli entrambi e poi Alessandro se non varrà preso Chiesa si andrà su De Golofeo otterremo quello che abbiamo finora la seconda il Milan non vuole fare tanto per ma si concentra su Chiesa così rispondo anche a Mirko io prenderei Bela parametro zero e spenderei cash per un buon difensore terzino destro per quest'anno non sono d'accordo con te o comunque il Milan non è d'accordo e poi ancora delle cessioni ho detto su Mare il Milan ha proposto anche una formula con un pagamento e una futura rivendita ma mi sembra una mossa per mettere fretta al Chelsea sinceramente il Milan vuole Bacayoko e Bacayoko vuole il Milan Locatelli dovremmo rimpiangerlo che ne pensi penso che è stata un'operazione di Leonardo sicuramente oggi lo rimpiangiamo perché vale molto di più è un peccato però a volte purtroppo devi fare scelte anche difficili a volte te ne penti a volte no come diceva prenderei Supriaga della Dinamo Chieva vent'anni sta andando al Bologna però il Bologna lo vuole non c'è ancora andato anche a me piace molto me ne parlano molto bene più vicino al Milan Don Frist lo escudo poi ho visto la formazione di Hello Milan sarebbe in realtà Milanello c'è il video dedicato se volete andare a vederlo con l'undici anche grafico della prossima stagione non mettere fuori Chiarmaro Magnoli che come capitano non cresce mai e poi un esterno lo prendiamo il Milan prova a prendere Chiesa secondo te il Milan chi prenderà dopo queste tantissime gioie l'abbiamo detto e poi Kamawinga non arriva vediamo altri messaggi l'eventuale cessione Pacheta potrebbe finanziare l'operazione Milenkovic sì ma anche Chiesa e poi è possibile che il Milan voglia Bakayoko per fare il difensore centrale no assolutamente no per metterlo lì davanti alla difesa ma a centro campo non pensi che aspettare tanto per il rinnovo di Gigio sia stato un errore assolutamente sì la vicenda Ragnik sicuramente ha rallentato il tutto ora comunque ti trovi in difficoltà e quindi non capisco come se ne possa uscire per limitare i danni economici Luigi ultimamente vengono fatti parecchi nomi per il rinnovo centrale il Milan vuole Milenkovic l'idea con Bulla sarebbe così assurda no ma il Milan si concentra su Milenkovic lo dico a Luigi appunto e poi vediamo altri messaggi a qualcuno già risposto De Paul zero possibilità e il Milan vuole Chiesa potrebbe andare alla Fiorentina a De Paul o comunque alla Juve e poi Vessino è stato più un'idea dell'Inter che vuole piazzare il giocatore ma al Milan non interessa non servirebbe comprare giocatori più di esperienza dopo gli acquisti di due giovani come Tonali e Diaz c'è Chiare c'è lo stesso Ibrahimovic ci sono diversi giocatori quindi non contesto questa linea societaria se i giovani sono bravi vanno presi subito senza pensarci neanche troppo Emerson Royal Atal Robinson Wigna non sono tutti fantamercato qualcuno sì e poi il colpo Dembélé lo escludo scambio Duarte Cassieco più Conguaglio a favore della Fiorentina il 50 di Rebice subito per Chiesa Milenkovic ci sono diverse possibilità per provare a convincere la Fiorentina pacchetta a Lione da Lione la smentiscono io resto sempre dell'idea che potrebbe andare alla Fiorentina e poi i 10 milioni che si danno a Roma sono veri oppure no li fa circolare il procuratore che ha iniziato una campagna una trattativa mediatica per il rinnovo del contratto sul vice Ibra l'ho detto potrebbe arrivare Matteo nei giorni dopo l'1 ottobre in prestito il nome oggi è sempre quello di Jovic assistito da Ramadani che è il grande regista dell'operazione Chiesa Milenkovic Kumbu l'ho detto Alessandro già e poi offerte per Benasser potrebbero anche arrivare io credo e spero resterà però sicuramente a mercato in questo momento e non siamo ancora nella fase caldissima del calcio mercato dove ci potrebbero essere ulteriori sorprese mi stupirei però dovesse andare via e poi 4-3-1-2 o 4-2-3-1 manteremo il 4-2-3-1 come diciamo modulo di riferimento all'occorrenza poi si può anche cambiare Locatelli Christopher non torna con l'arrivo di Tonali uno tra Benasser che si potrebbe partire credo di no non ci metto la mano sul fuoco al 100% ma credo di no e poi ancora Alilovic abbiamo detto soltanto il Benfica approvato ma credo che andrà via ancora in prestito con una parte dell'ingaggio pagata dal Milan possibile che la settimana prossima con l'arrivo di Commisso a Firenze ci possa essere un'accelerazione su Chiesa-Milenkovic sì direi di sì anche perché il mercato adesso entra nella fase caldissima ricordiamo che chiude il 5 ottobre su Bello detto non risulta e poi ancora Cavani come vice Ibra Cavani e Ibra non andavano d'accordo al PSG e poi tu spendi 10 milioni di euro per uno che sta in panchina no lo escludo categoricamente Arnaud no no non ci sono assolutamente novità per l'inizio del campionato un'altra operazione non lo so mi sembra un po' difficile credo qualche giorno dopo il campionato l'inizio del campionato e poi ancora Giobarone dopo l'assemblea ha fatto capire che Chiesa è cedibile speriamo bene è cedibile sì assolutamente sì che è cedibile e poi ancora preferisco scrive Michael Sumare Abakayoko perché è più giovane e tecnico e soprattutto costa meno per quanto riguarda il VCTO è vera la voce di Nuno Mendes e quindi restano i vivi nomi di Vigna Bustos e Mikolenko ho detto il Milan prima deve vendere l'Axalt sono nomi spendibili di concreto non c'è nulla la difficoltà in questo momento è far partire proprio il terzino l'Axalt ragazzi vi ringrazio per l'attenzione tantissime domande ho risposto in pratica a tutte mi raccomando l'iscrizione in questa zona se non l'avete ancora fatto il like e se volete curiosare qui ci sono anche gli abbonamenti mi raccomando iscrivetevi un abbraccio viviamo insieme gli ultimi giorni del calcio mercato che ci regaleranno altre soddisfazioni tante soddisfazioni se lo pensate anche voi lasciate il like e iscrivetevi ciao grazie a tutti